Buonasera a tutti, questa sera settimo appuntamento del progetto GEM Nuovi Orizzonti curato dalla conservatoria delle cucine mediterranee e si parla con Sebastiano Giacosa che ci è venuto a trovare da Savigliano e più precisamente dalla regione Sprina di Savigliano di una monoproduzione assolutamente interessante, molto molto particolare che lasciamo spiegare al nostro ospite nel dettaglio, non voglio dire niente di più. Elicicultura, allevamento lumache è una cosa un po' particolare, ultimamente si vede in giro qualche allevamento o meno, noi abbiamo deciso di fare un esperimento, abbiamo provato, stiamo andando avanti, dal 2007 abbiamo provato con pochissima roba, abbiamo fatto qualche esperimento, diciamo che dal 2012 siamo partiti e pian piano stiamo crescendo, speriamo che la cosa vada avanti e vada bene, per adesso siamo contenti, riscontri pian piano ce ne sono e si vedrà. E questo è quanto? Si fa in fretta a dire lumache, perché ce ne sono così tante varietà che credo sia necessario specificare qual è l'unica razza allevata dalla vostra azienda e perché è stata scelta l'Elix Aspersa Müller. Allora l'Elix Aspersa Müller è stata scelta perché, al di là che sugli allevamenti in Italia è in giro, il 90% è Elix Aspersa Müller, per il fatto che è una lumaca che si addice di più all'allevamento intensivo, ha meno problemi, l'allevamento in un anno si porta alla crescita della lumaca e quindi è tutto un insieme di cose che va bene proprio per l'allevamento. Diciamo con certi problemi che abbiamo noi al nord, perché abbiamo il problema del freddo, ma in qualche modo si cerca di coprire, di fare, di sistemare ste lumache da non lasciarle morire, perché c'è il discorso del ciclo, i piccoli rimangono d'inverno e l'inverno qui da noi certe volte è troppo freddo, quindi si fanno delle coperture, si copre con il velo della sposa, anche con delle foglie, per riuscire a salvarle in primavera da avere la produzione. Quindi è una razza che si presta particolarmente all'allevamento nelle nostre zone, però io vorrei sottolineare una cosa, lei ha parlato giustamente dell'allevamento intensivo, metterò le virgolette perché per chi come me, titolare di uno dei ristoranti storici di Torino nei quali si cuocevano solo le lumache, allevamenti intensivi a me viene in mente i grandi capannoni chiusi che vedevo quando andavo a fare le mie acquisti in Francia, noi qui parliamo di una piccolissima superficie aperta e coltivata appositamente solo per l'allevamento delle lumache, è diverso? È diverso, allevamento ciclo biologico aperte, a campo libero, dentro i recinti e di fatti proprio per quello siamo alle intemperie, c'è l'inverno, c'è l'estate, però è un sistema di allevamento che si addice a questa lumaca e la lumaca ne acquista il gusto perché mangiando comunque queste verdure mirate che facciamo la semina e tutto, il gusto la esalta perché l'allevamento intensivo sotto i capannoni purtroppo ci sono tanti mangimi e il mangime va benissimo forse per un lavorato di lumaca su un altro sistema ma non per questa lumaca che noi la vendiamo come lumaca un po' più particolare, ottima, la carne, una carne tenera, buona e sono due cose un po' diverse. E quindi lavorando nel progetto della conservatoria Gem è importantissimo che il consumatore finale sappia queste cose, non stiamo parlando della pomazia classica di grossa taglia, stiamo parlando di lumache che hanno una taglia piccola rispetto alla polpa perché ricordiamoci che dal peso a vivo bisogna togliere l'intestino, bisogna togliere il guscio che vengono comunque alimentate sul fresco perché io ho visto le coste, ho visto i cavoli, ho visto e girano, vivono liberamente per finire sulla tavola dei ristoratori che ne fanno richiesta ma questa sera anche per far assaggiare i nostri ospiti. Speriamo che oltretutto incontrino e piacciono, ma per adesso dove lavoriamo sono contenti, i ristoratori privati come lumaca quando la provano la esaltano, speriamo in bene anche qui che questo è un po' un esame io ho visto la nostra Lady Chef che sta preparando e anche lei mi pare d'accordo sul fatto che sia un buon prodotto un bellissimo prodotto, io avevo due misure e allora abbiamo giocato un po' nella ricetta proprio a saltare il prodotto in sé senza aggiungerle grandi condimenti, grandi cose, però è stato bello lavorare, divertente. Benissimo, quindi in attesa che arrivi i nostri ospiti, l'ultimo input da parte di Sebastiano Giacosa, ma perché le lumache? Perché è stata una scelta un po' obbligatoria, cioè inizialmente era un po' di passione, poi siamo partiti un po' di passione, la scelta è stata un po' obbligatoria per una causa estirpo kiwi, noi avevamo un'azienda a frutta completamente, essendoci un batterio che ha creato diversi problemi sulla pianta del kiwi con un obbligo di estirpo anche dalla parte della regione Piemonte sui fruttetti più infetti la decisione è stata di provare a fare un po' di allevamento di lumache, certamente non come l'estensione che avevamo di kiwi perché altrimenti dovrebbe creare una fabbrica, ma ci abbiamo provato e diciamo che tutto sommato non siamo scontenti, avendo già, la scelta è anche stata fatta perché noi eravamo già premuniti e avevamo comunque gli impianti di irrigazione, problemi per l'acqua e tante cose c'erano essendo sugli impianti dei fruttetti, quindi sfruttando quel sistema tra le due cose ci abbiamo provato, continuiamo a provarci, andiamo avanti e speriamo la cosa principale sull'allevamento, è molto importante l'allevamento ma è molto importante la vendita e lì bisogna girare, cercare i clienti e riuscire a crearci una rete di vendita che pian piano ce la stiamo creando ma è contento? bisogna sempre, nella vita bisogna sempre andare avanti, cercare rimettersi in gioco, beh mi sono rimesso in gioco 55 anni, credevo di non doverlo più fare, l'ho rifatto, sono contento ma a me pare che gli risultati siano ottimi, aspettiamo il giudizio finale dei nostri ospiti immaginando comunque, essendo sicuro che sarà un grande successo speriamo, grazie, grazie a tutti arrivederci